Dal regista visionario Adam Wingard, ma chi cazzo, famoso per capolavori come Blair Witch, che merda, VHS, what the fuck, ma questo fa solo film horror, autoerotic, e no eh, il primo lungometraggio occidentale ispirato, perché se diciamo ispirato e nesce una cagata possiamo dire che è solo ispirato e quindi i fan non ci tireranno i pomodori addosso di Death Note. Oh mio Dio! Aiuto! Aiutatemi! Aiutatemi! E questo che diavolo è? Manca tanto! Manca tanto! Manca tanto! Gli esseri umani sono così, idioti. No, 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 aspetta un momento. Ma che sbagliamo sulle basi? Un quaderno della morte cade improvvisamente dal cielo? E va nelle mani di un genio incompreso Ok, rilassati Light. Ok, rilassati. Con la partecipazione del Light più intelligente che abbiate mai visto. Death Note. Che cos'è? Cos'è cos'è? Congratulations! 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 Quel quaderno? Non posso dirtelo. Ok. Vuoi saperlo davvero? Meanwhile, in our universe... Devo metterti in riga! Esci dalla mia casa, chiamolo a sicurezza! Va bene, me ne vado! Sì, vattene! Non dirmi che è il tuo quaderno di poesie. Quando lo vedrai, non spaventarti, io mi sono spaventato un po'. Che ci riserva anche ottimi momenti di recitazione. Con Mia. Get the London look. La fidanzata dolce e affascinante che tutti desidererebbero. Ora dammi il mio cazzo di quaderno, ok? Ryuk. Lo Shinigami nella parte del cartolaio. Non ho la penna. Fortuna che ne hai una tu. Che penna cancellic, non ci sono paragoni. Puoi scrivere e anche cancellare. Yeah! C'è solo una cosa che devi ricordare. Affinché abbia effetto, occorre avere in mente il volto della persona di cui si scrive il nome. In tal modo si evita di colpire eventuali omonimi. Ottimo. Per un principiante non è niente male. Rotti bastardi. Watari. Così intelligente da mostrarsi sempre col volto scoperto. Capace solo di fare gelati al gusto pistacchio. E pessimo giocatore di indovina chi. Sei pelato? Hai cappello? Se risponde sì. Vinci a indovina chi? Hai capelli grigi? No. Fai la domanda migliore e vinci! E lei Watari? Sono io Watari. E l'L più nero che abbiate mai visto, oltre che schizofrenico. Stupido. Dannazione! Hai superato il limite. Se mi costringi a fare lo stesso ti assicuro che non leggi vivo. Narcia ancora mio figlio e ti uccido, cazzo! Analfabeta? E neutralizzato da un pizzaiolo. Non muoverti! Non muoverti! Quest'uomo è Kira. Io collaboro con la polizia. Per catturare ed eliminare... Dio Kira. Il film di Death Note non ha nulla da invidiare a qualsiasi must, garantendo frasi che rimarranno nella storia, come... Un Dio che fa cagare sotto i cattivi, finché non vorranno più essere cattivi. Momenti degni dei peggiori film italiani. Posso baciarti? Non dovresti chiederlo. Oh male! Io l'ho buffata! E soprattutto citazioni ad altri capolavori. Regolo 28. Ogni morte deve essere fisicamente possibile, quindi niente squali che attaccano mentre qualcuno ha il capiretto. Death Note. Guardalo ora! Sì, ma la partita a tennis tra Light L che sin dai primi scambi era una palese guerra psicologica tra i due? It's... ... ... The two really amateurs? Who are they anyway? I think their names are Light Yagami and Hideki Ryuga. These are the same two guys who scored perfect on the exam. One cannot win with defense alone. To win, you must attack! E dov'è invece la scena in cui Light mangia una patatina? Erano finiti i fondi Ma che vuol dire? E allora con cosa l'avete sostituita? Ma va a fan Grazie per la visione